Bentrovati a tutti, volevo condividere con voi una serie di preghiere a Maria Santissima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostrasi dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, addolorata sotto la croce di Gesù, con il cuore trafitto associata alla sua passione, per il supremo testamento del tuo figlio, un perenne vincolo di amore si è instaurato tra te e noi, che ti riceviamo come eredità preziosa dalle mani del Maestro. A te, costituita madre dei credenti, ricorriamo da secoli come rifugio sicuro e invochiamo la benedizione di Dio anche per intercessione di Maria Santissima. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio e vi auguro una felice e una santa vita. a Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.